Vi sblocco una nuova paranoia a livello di truffe digitali, truffe online. Guardate questo video e capite di cosa si tratta. State attenti ai QR code che fotografate in giro per strada, anche ad esempio per pagare il parcheggio. Quindi cosa sta succedendo? In questo video si vede una persona che con le unghie stacca un QR code da un parchimetro che uno dovrebbe in teoria inquadrare per poter andare sull'app e fare il pagamento del parcheggio e in realtà si scopre che è un QR code posticcio, appiccicato sopra a quello vero e quindi probabilmente rimandava a qualche sito truffo per cui uno che non è attento e non presta davvero attenzione magari preso dalla fretta perché deve andare a parcheggiare la macchina velocemente, clicca su quel link che compare col QR code e fa il pagamento che va a qualcun altro. Quindi se le inventano davvero tutte, fate circolare perché bisogna stare davvero attenti e buttare l'occhio.